L'aria è di quelle pesanti, con i tifosi inferociti e pronti domenica sera alla contestazione all'Olimpico, ma la Roma ha deciso di interrompere il ritiro. La decisione è stata presa da società e allenatore, sposando la linea dei giocatori. A Trigoria, dove la Roma ha dormito rientrata dalla trasferta di Plzen, infatti, si ritiene che sia più utile dare ai calciatori qualche ora di riflessione per conto proprio, quindi la squadra dopo l'allenamento di oggi tornerà a casa. Sabato sera, invece, classico ritiro prepartita.desktop minore di spendclass uguale notification barra spangazzetta tx link copia embedo copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information.vertice. Lunedì, poi, il direttore sportivo Monchi volerà a Boston dal presidente Pallotta. Con ogni probabilità salterà la festa di Natale del club, in programma il 18, ma in questo momento è più importante confrontarsi con il presidente sulle strategie future. Mercato, in origine. Ma vista la delicatezza della partita di domenica con il Genoa e la posizione sempre più in bilico di Di Francesco, il tema principale rischia di essere proprio la questione tecnica.capitan Costas, questione tecnica che, almeno per ora, non sembra essere l'argomento principale per i tifosi. Al netto delle critiche, a tratti anche feroci, all'allenatore, per i romanisti Monchi e, soprattutto, Pallotta sono i principali responsabili di una squadra che non sembra neppure parente di quella che otto mesi fa conquistava la semifinale di Champions. Al presidente viene chiesto di andare a casa Pallotta Go Home lo striscione esposto a Pelsen, Monchi è accusato di aver distrutto la squadra, ai giocatori non viene perdonato nulla, soprattutto, secondo molti, la mancanza di empatia con l'ambiente. Dal momento non si salva Manolasa Pelsen era capitano e da capitano è andato a prendersi la contestazione sotto al settore ospiti. I compagni lo hanno seguito ma poi si sono allontanati, lui è rimasto impassibile a ricevere i fischi. E i tifosi hanno apprezzato il suo atteggiamento quella fascia è una responsabilità e va portata con coraggio e umiltà, uno dei tanti messaggi su Twitter per il greco. Non tutti sono in grado di farlo, lui questa sera alla sua prima da capitano l'ha fatto. Finisce il match e va sotto al settore a prendersi i fischi. Essere capitano è anche questo.